Dal 1970, specialisti per tradizione. Dal 1970, la ditta parrucche al vomero opera nel settore. L'esperienza e la professionalità maturate nel tempo garantiscono l'alta qualità delle parrucche e di tutti i nostri prodotti. Specializzati in parrucche per persone sottoposte a cicli di chemioterapia, riproduciamo lo stesso taglio, colore, quindi la stessa linea. Tutte ultraleggere con materiali analergici e traspiranti sul pronto e su misura, ma soprattutto accompagnate da certificato di garanzia CEPAT. Produciamo parrucche e infoltitori per alopece su micro retina, effetto cute, sia parziali che totali, in capelli vegetali, ma soprattutto in capelli naturali italiani. Per calvizia e uomo, realizziamo protesi a innesto, lavorate a mano, con effetto naturalissimo, prettamente su misura, in capelli veri, con la stessa qualità e quantità dei propri. Effettuiamo inoltre allungamenti, infoltimenti fissi e mobili in capelli naturali, tupè e semplici posticci in fibra moda acrilica per singole serate. Vendiamo e affittiamo inoltre parrucche per cinema e teatro ed offriamo gratuitamente personale altamente qualificato a domicilio.